Siamo in compagnia del capitano Gigi Di Pasquale. Gigi appresti a vivere la terza stagione consecutiva con la maglia giallo-blu addosso, con la fascia da capitano. Che sensazioni hai? Sono sensazioni bellissime perché in questi due anni abbiamo fatto delle cose stupende, perciò io da più grande del gruppo e anche da capitano sono ancora felicissimo di far parte di questo gruppo, di stare in questa società stupenda, di portare la fascia di capitano per la mia città. Sono contento perché stiamo lavorando bene, anche i ragazzi nuovi davvero dei grandi professionisti e prima di tutto grandi uomini che sono arrivati e ci daranno una mano sicuramente per raggiungere un altro grande obiettivo che ci siamo prefissati di vincere. Speriamo che vada tutto bene, adesso dobbiamo pensare solo a lavorare perché ci aspettano davvero due o tre settimane di ritiro davvero molto forti, perciò siamo pronti e ci stiamo allenando, stiamo andando bene tutti. Gigi fa tanto caldo come riprendere ad alti ritmi? Fa caldissimo però il ritiro è importante per tutti noi, per la squadra e anche per uno come me che è un po' di anni in più degli altri, perciò bisogna allenarsi per fare bene e quando si ha questi obiettivi che bisogna vincere la prima cosa è allenarsi bene e noi lo stiamo facendo. Adesso il 31 partiamo in ritiro e ci alleneremo ancora di più per raggiungere un obiettivo importante che è quello di poter vincere questo campionato, speriamo, ce la metteremo tutta. Tu questo campionato l'eccellenza lo hai già vinto per di più da capocannoniere con il Gallipoli, secondo te quanto è realizzabile il salto di categoria a lungo inseguito anche in passato dall'Odace? Sì, parlavo anche con i miei compagni di squadra, io l'ho vinto già, un campionato, sappiamo tutto, un campionato duro dove si gioca pochissimo a calcio, ma noi siamo pronti anche ai nuovi arrivati, gente che davvero ha giocato a calcio e ha masticato queste categorie perciò ci daranno davvero una mano per raggiungere questo grande obiettivo. Io spero di poterlo vincere anche con la maglia della mia città, sarei proprio felicissimo di poter vincere l'eccellenza da capitano e con la maglia da Cerignola. Gigi, per chiudere, sono arrivati già ragazzi importanti, acquisti importanti, secondo te però manca ancora qualcosina, forse anche in attacco? Ma questo non lo so, io ti parlo della gente che la società ha portato già qui e degli amici di squadra stupendi, sono davvero dei grandi giocatori che davvero ci daranno una mano, ti sai io sono il capitano, penso a giocare, le altre cose le fa la società, perciò chi arriva è benvenuto e che ci viene a dare una mano davvero con il cuore è benvenuto, però per me siamo davvero un grande gruppo e anche così con questi nuovi arrivi possiamo davvero dirla la grande quest'anno, questo campionato. Ok grazie Gigi, siamo con Manuel Vergori, nuovo acquisto dell'Audace Cerignola proveniente dalla Manfredonia, Manuel è il tuo primo anno qui appunto all'Audace, ecco che impatto hai avuto con la città di Cerignola e con l'Audace? Diciamo che tanto mi fa piacere stare qui perché penso che parlando col Presidente mi ha trasmesso il giusto entusiasmo per poter iniziare questa avventura, poi adesso ancora non ho avuto modo di misurarmi con la città, con il calore della gente ma mi è bastato quello dei compagni, il benvenuto, l'accoglienza che mi hanno dato per far sì che ci fossero tutti i presupposti di iniziare al meglio questa avventura. Manuel quest'anno insieme ai vari Matera, Colangione e Ciano formerai un pacchetto difensivo molto completo, molto importante, secondo te uno dei più forti della categoria? Sì secondo me sì perché penso di aver trovato dei compagni già all'altezza della categoria se non anche di categoria superiore, quindi mi fa piacere allenarmi, confrontarmi con loro, migliorare con loro, quindi è stato un piacere, avere compagni forti è sempre un piacere, quindi meglio averli da compagno che da avversario. L'Audace li prenderà dopo due anni da imbattuta, qual è l'obiettivo di squadra e anche il tuo personale? Intanto penso che colgo adesso l'occasione per fare un plauso ai miei compagni che in questi due anni hanno veramente fatto bene, meglio non potevano fare, però adesso inizia un campionato diverso dove sicuramente ci saranno altre insidie, altre difficoltà, misurarsi con piazze blasonate come Barletta, Altamura che comunque ha costruito una buona squadra e altre adesso non me ne vengono in mente sarà un bel banco di prova per chi in questi due anni ha vinto tutto ed è stato meritatamente confermato quindi il campo dirà se il percorso fatto dalla società è stato giusto, anche con noi nuovi acquisti se il tutto poi andrà come la società ha deciso che deve andare il campo vi parlerà a nostro favore Ok, grazie Emanuele e benvenuto qui a Cerignola Grazie a voi, ciao Grazie Emanuele